Ciao, oggi vediamo come fare la mousse al cioccolato per un dolcetto veloce veloce. Gli ingredienti sono 100 g di cioccolato fondente e 132 g di acqua. Calcoliamo la quantità d'acqua necessaria. Leggiamo sulla confezione del cioccolato quanti grassi contiene la tavoletta, nel mio caso 46, lo moltiplichiamo per 100 e lo dividiamo per 35, che è la proporzione esatta tra grassi e acqua necessaria. Ci prepariamo un pentolino con l'acqua e spezzettiamo il cioccolato e lo mettiamo dentro. Lo scaldiamo a fuoco lento fino a che si scioglie. Prepariamo una ciotolina con dell'acqua e del ghiaccio, dopodiché ci mettiamo dentro il contenitore con il cioccolato fuso e cominciamo a frullare con delle fruste fino ad ottenere una mousse. Questa mousse la possiamo utilizzare per diverse guarnizioni. Io l'ho usata così, ho fatto un dolce al bicchiere mettendo dei biscotti spezzettati, un goccino di latte, ho messo un po' di mousse e ho alternato con un altro strato di biscotti e altra mousse. Poi ho decorato con granella di mandorle, cioccolato, un bastoncino di cannella e dello zucchero a velo spolverato sopra. Questa mousse rimane abbastanza amara, se voi gradite un po' più dolce potete aggiungere, mentre frullate, dello zucchero a velo o anche degli aromi come la cannella. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima ricetta, ciao!